Contento, proprio contento, sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania e mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. Lo so, lo so, lo so, che un uomo a 50 anni ha sempre le mani pulite ed io me le lavo due o tre volte al giorno, ma è quando mi vedo le mani sporche e mi ricordo di quando ero ragazzo. Quando mi ha portato per la prima volta a vedere il Bolshoi, sembrava che tutti i paichi fossero una montagna d'oro che mi cadeva addosso ed io stavo con la schiena piegata, ma tu mi hai detto stai dritto che la bellezza non pesa.